Buongiorno, è un po' che non creavo video vero? So che sono sparito per una settimana e ora vi spiego il perché. Più o meno una settimana fa, quindi l'ultimo giorno prima dell'uscita del video di Minecraft della settimana scorsa, stavo cazzeggiando e ho deciso di installare Windows 11. Fin qui, tutto a posto giusto direte a voi? Non proprio, solamente perché uno non me lo faceva installare, come è successo per due anni di fila, secondo perché provando a installare sulla chiavetta, uno ho perso Windows 10 Pro, tutti i file, quindi compresi ad esempio resource pack, shaders, tutti i miei file all'interno del computer, ad esempio qua ho riscaricato tantissima roba, tanto Xbox Games esplodi. Qui ci sono tantissime cose che ho potuto salvare, tipo i file della GoPro, le live le ho perse, i video pure, avevo 40 video tipo da caricare che erano pronti per voi. Vabbè, come vedete ora ce l'ho Windows 11. L'unico problema è che ho perso tutte le clip per i video, tutte le canzoni, tutto, tutti i file, tutti i preset, ad esempio per OBS ho dovuto riregistrare il video solamente perché la qualità era in 2500 kilobyte. Minecraft puoi anche generare chunk, grazie, al posto che è 25.000 infatti si vedeva completamente sgranato. Poi altra cosa che mi fa incazzare è che YouTube non so se scelga il creator a cui dare qualità perché ho provato a caricare i video in 6000 kilobyte, la qualità classica che ad esempio è caricata con le live di Twitch e veniva sgranato. In 25.000, quindi lo stesso con cui sto registrando questo video, veniva sgranato lo stesso. Quindi perché? Perché mi fai questo YouTube? Mi scambi? E niente, quindi ci metterò un po' a rifare tutto, tutte le cartelle, tutte le cose che avevo pronte le dovrò rifare, anzi non le potrò rifare perché non ho più i file pronti, quindi ci saranno due o tre nuove serie tra cui una su GTA e due su Minecraft che potranno uscire a breve, una che porterò con Luca o forse anche due non lo so, però presto vedrete qualche video nuovo sul canale, anche perché per forza devono uscire i video. Se mi sganciate un'iscrizione, un like, se volete lasciare un commento con un'idea per una nuova serie che sono un po' demotivata in questi giorni, mi fa piacere. Ecco magari consigliatemi su che cosa portare una nuova serie, su che gioco ecco. Noi ci vediamo presto, quindi non so quando, anzi sì, stasera in live su Twitch 20.30 o forse iniziamo anche le 21.15 perché c'è un evento bello che non posso perdermi, quindi ci vediamo presto. Spero di non dover riregistrare questo video perché sennò mi rompe i coglioni.